Amici di Detto Tra Noi ben ritrovati, noi siamo pronti ad aprire la nostra finestra sull'attualità, quest'oggi lo facciamo andando ad approfondire una figura femminile davvero molto speciale perché cercheremo anche di andare un po' a capire quelle che sono le sue reali caratteristiche al di là di quello che poi il filtro della storia ci ha restituito. Parliamo di Lucrezia Borgia, lo facciamo attraverso un docufilm e in particolar modo entriamo un po' dietro le quinte di questa produzione che a brevissimo ma non ancora vi sveliamo chi ce la presenta, ecco una produzione che insomma è firmata da un gruppo di amici di Detto Tra Noi. Noi però prima ci vediamo il teaser di questa produzione che si intitola duchessa d'este. VIDEO CONTESTRO SIGLA PIN Expliquiamolo Lo aspettiamo che sia per nostro rancio. 구 PIN EXPRESSIVO PIN Goshik NOISLE GUIP Freeman Mband麗 WOSO RISPECIAMO UP 65 PIN VITE BO RISPECIAMO RISPECIAMO Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.